ok allora spero che ci sia in linea sì studenti che ha fatto la domanda diciamo che non ho una risposta definitiva nel senso che vorrei ancora parlare con chi ha scritto questa riga sulla slide che mi sa che che già che ancora dell'anno scorso no beh no in realtà diciamo che il fatto che il match ma così tra l'altro come il param per esempio location ci vengono ci arrivano come parametri no e se però mi hanno chiamato non dal root io come faccio a sapere dove diciamo ad avere tutte le informazioni che ho col match sì certo posso prendere use location mi da l'url però scompattarmi l'informazione di dove sono quindi la parte param la parte che fa il match e così via diciamo che questo è utile penso in questo caso qua penso che volesse solo dire questa cosa niente di particolare cioè è chiaro che qualcuno mi deve aver portato su quella pagina però magari mi ha portato senza passarmi questa informazione e quindi fondamentalmente vuol dire che o me la calcolo io a mano nel senso che prendo la location e mi divido l'url in pezzette secondo di come ho bisogno oppure oppure mi dà questa informazione use root match mi dà l'oggetto match come peraltro succede per i params quindi è questo che non capisco tanto cioè per il motivo per cui l'ha scritto specificatamente per il match e non per i params per dire comunque mi consulterò con chi l'ha scritto e poi eventualmente faccio sapere su slack direi che possiamo andare avanti se no non ce la facciamo non abbiamo tantissimo nel senso che appunto parliamo un po di javascript classi per quanto si può parlare di classi in javascript e poi di moduli che però usate già quindi ci sarà poco da dire dunque se andassimo direttamente all'url update e succede che facciamo pure le prove spero di aver lasciato attiva l'applicazione se mettiamo bar update e succede che ci andiamo come se fossimo in add perché nessuno ci passa lo stat e quindi vede che è come se andassimo con l'add questo è il motivo per cui non bisognerebbe mai scrivere l'url qui a meno che non sia un url semplice di navigazione che carica dei dati quindi che so details slash codice del corso lo carica del server e vabbè allora quello funziona sempre perché va a prenderlo dal parametro l'informazione non ha uno stato e quindi il risultato è sempre lo stesso ok bisogna un po trovare un compromesso nel senso vogliamo il vecchio ma il comportamento vecchio dell'applicazione più vecchia ma con un sistema un po diverso bisogna avere dei compromessi tra l'altro è la stessa cosa che se caricate un url che corrispondeva a un post nel browser lui vi dice attenzione vuoi rifare il post o no perché guarda che magari stai rischi di cambiare uno stato lì c'è lo stato più esplicito perché il browser lo conosce qui il browser non sa dello stato e l'applicazione in javascript lo sa e però se non gli arriva diciamo non è che ci dà un warning non può darci un warning anche perché noi abbiamo detto che nel codice abbiamo voluto riciclare lo stesso componente lo stato senza stato e quindi si comporterà come se non c'è lo stato avessimo voluto distinguere le cose probabilmente ci dovevamo fare un primo componente che capiva come ci eravamo arrivati e un secondo che faceva poi in forma però diciamo lascierebbe il tempo che trova questa soluzione perché ci focalizziamo su un aspetto che non dovrebbe neanche essere usato alla fine dall'utente voi una volta che siete entrati su un sito di solito non pacioccate mai con l'url del browser andassimo nuovamente alla location per risolvere il problema come però non vi è nessuno stato allora mostra alert sì 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 si può fare cioè ci faccio un if se siamo sulla location update e non c'è nessuno stato faccio un alert sì è una possibilità questo sì però come dire sto gestendo un sacco di casi che non dovrebbero verificarsi no? è vero che è brutto diciamo che noi stiamo imparando dalle basi se vogliamo stare cioè andare verso applicazioni più complicate eccetera mi sa che ci servirebbe un secondo corso allora cioè c'è tutta una trattazione che si potrebbe fare sullo stato dell'applicazione con reducere e tutto che noi non faremo perché non ci sta in sei crediti e lì potremmo gestire un po' meglio le transizioni di stato in maniera un po' più attenta e magari dire che se siamo arrivati su un url e non siamo nello stato corretto mettiamo un alert o qualcosa di tipo più generico se è verificato un errore interno per favore ricomincia da capo qualcosa di questo tipo all'esame questi dubbi come li gestiamo? intanto potete chiedere diciamo il canale Slack rimarrà attivo e poi abbiamo comunque una sessione di domande e risposte per ogni tema d'esame assegnato in cui queste cose si possono chiedere e comunque diciamo che noi non andiamo a paccioccare sull'url ecco mettiamola così perché? perché lo sappiamo che stiamo creando applicazioni web in cui ci aspettiamo che l'url si modifichi perché se usate il router deve cambiare però sappiamo anche che se scriviamo qualcosa lì stiamo ricaricando l'applicazione quindi diciamo non ci aspettiamo che quella cosa funziona se non a partire dalla prima pagina quando ricarico la prima pagina sì l'applicazione deve ripartire ripartire in uno stato ragionevole poi magari ne riparliamo anche un po' di più quando avremo fatto un'autenticazione che di fatto è poi l'unico stato un po' critico da gestire quando partiamo nell'applicazione perché se siamo autenticati o no perché per il resto se no si può partire sempre da lo stesso punto ok allora javascript classi e moduli abbiamo scritto classi ma in realtà javascript è un linguaggio in cui gestiamo oggetti non classi però c'è una specie di meccanismo qui chiamato di prototipo perché alla fine la classe è un prototipo di un oggetto uno schema col quale costruire oggetti e quindi il javascript è appunto un linguaggio basato sugli oggetti ma che usa i prototipi piuttosto che le classi per costruire i nuovi oggetti è vero che a un certo punto hanno introdotto la keyword class è vero che possiamo scrivere del codice che assomiglia molto a quello di un linguaggio oggetti tradizionale con le classi ma ci piacerebbe che in questi 20 minuti abbiate un minimo di idea di che cosa succede al di là del diciamo di questo scrivere classi new eccetera come se fossero veramente delle classi ma cosa succede realmente in javascript quando lo facciamo quindi ogni oggetto in javascript ha una proprietà interna nascosta che si chiama prototype con le due quadre mi raccomando che è diversa dal punto prototype dopo c'è dove è andato dal punto prototype sono due cose diverse si chiamano purtroppo nella stessa maniera una volta era chiamata punto underscore proto deprecated però diciamo adesso la chiamano così cosa fa questa cosa? è un puntatore che punta ad un altro oggetto associato con il nostro oggetto e quindi se volete è l'oggetto che fa permettetemi così dire da generatore anche se è un po' improprio si può leggere e cambiare anche se appunto nei nostri programmi non avremo mai bisogno di fare questa cosa possiamo anche accederla appunto nel nostro programma però questo metodo è deprecato ecco può darsi che punti a null in realtà vedremo che punta a null in un unico caso perché c'è un unico oggetto che punta a null quindi questo secondo oggetto è chiamato oggetto prototipo cerchiamo di non fare confusione tra la proprietà prototype questo doppia quadra prototype che punta all'oggetto prototipo si chiamano tutti prototipo purtroppo è così però sono tre cose differenti quindi ogni oggetto poi un suo prototype con le quadre che linka ad un altro oggetto eccetera eccetera ad un certo punto si arriva a null di solito c'è solo un oggetto in javascript quello che si chiama object con la O maiuscola l'oggetto di livello massimo che punta a null ok e tutto il resto è una catena che parte da quegli oggetti incluse le funzioni incluso tutto quanto le classi e le funzioni costruttore hanno anche un attributo punto prototype se non bastasse come complicazione che punta l'oggetto prototipo degli oggetti creati da esse quindi le funzioni costruttore e le classi che di fatto sono delle funzioni costruttore mascherate hanno che quanto punto prototype che diciamo è l'oggetto prototipo quindi se volete un oggetto che contiene una specie di definizione della classe per gli oggetti che vengono creati da queste funzioni costruttore ovviamente i due non sono da confondere vediamo lo schema forse questa è la slide più difficile di tutto il discorso quindi noi abbiamo questo codice che è molto semplice perché l'abbiamo già visto fin dall'inizio const p new person fulvio ok function person l'abbiamo chiamata col new questa è una funzione costruttore sapete che dentro ci possiamo fare this name name quindi un segnale parametro ha un this punto qualcosa questo sembra codice oggetti normale così come possiamo fare new date quindi usare delle funzioni costruttore predefinite di libreria sempre date che object stessa altra cosa piuttosto che creare un oggetto direttamente aprendo la parentesi graffe ok ovviamente sappiamo già cosa succede in questi casi va bene però cosa succede nella memoria di javascript allora p anzi facciamo così r che è la cosa più semplice r l'oggetto aperto con le graffe è la cosa più semplice non c'è di mezzo nessuna funzione costruttore punta il suo prototype con le quadre punta object prototype quindi la classe che da cui diciamo che usiamo come template per creare tutti gli oggetti il cui prototype è finalmente nullo quindi la catena è così object quindi l'oggetto object ha un prototype punto prototype che punta l'object prototype che poi punta nulla quindi è leggermente diverso se noi facciamo new object oppure apriamo le graffe no che in un caso abbiamo creato questo e in un caso invece abbiamo creato un oggetto che ha il suo prototype che va direttamente a come si dice al null il punto che per cui questo prototype con le quadre va a funerare su function è perché in realtà object dal punto di vista di javascript quando noi scriviamo new object stiamo chiamando una funzione quindi la funzione si chiama object ma la funzione anch'essa ha un prototype e il prototype è il function punto prototype così come potremmo scrivere new function con la f maiuscola che è già predefinito in javascript in questo caso entrambi prototype punto function prototype il quale è un oggetto come gli altri quindi avrà un object prototype il quale arriva null ok di new date date va bene appunto come object come function ha un suo prototype il quale va sempre in object prototype e poi arriva null person ecco questa la abbiamo scritta da noi perso una funzione quindi il suo prototype è il function prototype e il quale poi ha tutta la catena come function e come object che sono altre funzioni la cosa particolare delle funzioni costruttore è che il prototype crea cioè va a puntare ad un ad uno speciale oggetto che viene creato automaticamente che è questo person prototype che potremo accedere poi da person e sarà il modo col quale riusciamo di fatto a creare le cose che nei linguaggi normali diciamo basati su classi sono le proprietà gli attributi statici cioè quelli comuni a tutte le istanze nel nostro caso non esiste sarebbe comuni a tutti gli oggetti perché tutti gli oggetti creati con new person punteranno col punto prototype allo stesso singolo ce n'è uno solo oggetto quindi p punterà person prototype col suo prototype con le quadre se facessimo p2 uguale a new person anche lui punterà person prototype p3 anche lui ha perso un prototype quindi se noi su questo person prototype ci mettessimo qualcosa sarà accessibile da tutti quanti quelli creati con la funzione costruttore quindi abbiamo in qualche maniera se volete trovato finalmente il template per tutte le funzioni diciamo per per tutti gli oggetti creati dalla stessa funzione costruttore quindi di fatto abbiamo trovato il costruttore e abbiamo trovato il template che è la classe diciamo tradizionale anche se è tutto fatto in una maniera un po' particolare ok va bene la catena i prototype di solito finisce a object prototype che ha prototype null va bene ecco su object prototype ci sono tante properties e methods che sono comuni a tutti gli oggetti javascript quindi su object prototype qui su object prototype ci sarà appunto una cosa due tre eccetera in particolare c'è per esempio il to string value of eccetera eccetera as on property quindi quei metodi che dicevamo si possono chiamare su tutti gli oggetti stanno nell'object prototype che alla fine è il punto dove arrivano tutti quanti ed è per quello che tutti gli oggetti in javascript hanno quei metodi quindi tutti gli oggetti vabbè quello della graffe l'abbiamo visto no l'object litter anche loro arrivano su object prototype come si fa ad accedere alle proprietà ereditate in realtà non c'è questa ereditarietà come nel linguaggio tradizionale ma diciamo c'è la catena questa catena se volete la possiamo vedere come ereditarietà nel momento in cui noi scriviamo oggetto punto qualcosa javascript fa questo se la proprietà è definita sull'oggetto si usa risolto come prima min zero c'è min sull'oggetto r su r c'è min risolto non c'è problema se invece scrivo un punto qualcosa che non c'è sull'oggetto javascript va a scorrersi tutta la catena del quadra prototype se da qualche parte lo trova la usa per esempio il to string e se non c'è a un certo punto ritornerà undefined però si è dovuto scorrere tutta la catena è un po' come quando reeditiamo i metodi nei linguaggi o i come si chiama le properties nei linguaggi tradizionali solo che lì l'ereditarietà avviene a tempo di compilazione quindi il compilatore già sa che cosa avranno gli altri oggetti e già sa dove andarlo a prendere qui javascript a runtime deve andarsi a cercare dove stanno le proprietà quando scriviamo le properties invece non si segue la catena che se non diciamo c'è un piccolo dettaglio da sistemare nel senso che se facciamo un nuovo punto qualcosa quel punto qualcosa finisce su quell'oggetto non è che va a finire nella catena dei prototype chissà dove se non c'è viene creato e tra l'altro può nascondere robe nella catena nel senso che si usa il più vicino quindi se lo chiamiamo nella stessa maniera sovrascriviamo scusate nascondiamo non sovrascriviamo perché quello nella catena continua a esistere ma quello nuovo diciamo viene acceduto perché si accede al primo quando facciamo appunto qualcosa ok quindi qui trovate un confronto che non starei a commentare più nel dettaglio nel senso che chiaramente c'è un po' di diversità ma sono quelle che diciamo raccontiamo noi no a questo punto ci viene da da chiederci ma noi facciamo new new person e poi se volessimo fare un metodo su person no che so non so show age no dacci la persona oppure non so compute age mettiamo che abbiamo dobbiamo prendere la data di oggi la data di quando è nato e farci il calco va bene dove la creiamo la funzione la creiamo sull'oggetto oppure abbiamo una maniera di crearla e renderla comune a tutti gli oggetti creati con new person dipende da cosa facciamo se noi scriviamo function person e poi ci facciamo this punto qualcosa uguale function questo è locale all'oggetto ci sarà una copia della funzione per ogni oggetto che viene creato ogni volta che facciamo new person si crea una nuova funzione se invece noi facciamo person.prototype punto qualcosa uguale function siccome l'abbiamo messo sul prototype quindi nel disegno l'abbiamo messa qui ok e non sull'oggetto cosa che ci fa automaticamente il this name cioè se mettiamo this name e il name finirà qua allora questa funzione sarà una sola e sarà accessibile la stessa funzione a tutti quelli che sono stati creati con il new person perché tutti condividono lo stesso prototype questo è il meccanismo di javascript per diciamo realizzare la gestione diciamo delle classi quindi dei template e delle istanze cioè degli oggetti quindi dobbiamo specificatamente usare punto prototype cosa c'è di svantaggio chiaramente che quando noi scriviamo punto prototype quindi ci sarà p punto show age javascript non trova show age su p che l'ha new person perché non l'abbiamo messa lì per metterla lì dovremmo scrivere this p cioè this punto show age deve andarsi a scorrere la catena dei prototype finché la trova scorre di uno la trova la chiama ok la cosa interessante è che sono identiche quindi questa funzione è identica per tutte le istanze lo svantaggio è che non può accedere a variabili locali del oggetto cioè io non posso scrivere qui dentro this punto perché non c'è un this e come nel linguaggio oggetti tradizionali dalle funzioni statiche io non posso accedere ai valori di una singola istanza perché non c'è l'istanza perché è una cosa comune a tutti no? lo posso fare solo dall'istanza e quindi hanno pensato in javascript dall's6 nella versione s6 di introdurre una keyword class perché diciamo onestamente scrivere in questa maniera sta a diventare un po' matti si perde un po' il vantaggio della quindi nel secondo caso quel this age è comune a tutti questo this age sì dovrebbe essere comune a tutti this age però perché mi ha scritto this age change function sì infatti questo è strano no questo forse non funziona probabilmente bisogna fare prima un person prototype page giusto esatto esatto bisogna fare un person prototype page ed è una ed è una property comune a tutti gli oggetti come facessimo una variabile statica come si fa nei linguaggi tradizionali per contare il numero di stanze no? cioè una variabile che però è di classe e non di stanza ok grazie bene si usano poco queste cose quindi si diciamo ci si sbaglia con facilità e poi appunto non è la maniera migliore di appunto di scriverla no? perché siamo abituati a pensare secondo la filosofia classi e allora hanno introdotto la classe e ci sono due modi di definire una classe va bene la new che abbiamo già visto si può usare poi per istanziare la classe quindi dichiarazione class rettangolo ci mettiamo un nome come siamo abituati a fare poi c'è una parola chiave apposta constructor e dentro diciamo che scriviamo del codice più o meno come siamo abituati a fare però occhio che sotto poi javascript trasforma tutto con quel meccanismo del prototype no? le dichiarazioni in classe non sono hoisted quindi non diciamo si possono usare solo dopo ma diciamo che va bene così oppure si possono diciamo creare in questa maniera no? un po' come le funzioni le funzioni potremmo scrivere function qualcosa quindi qui class qualcosa oppure assegnarla a qualcos'altro con nome o senza il nome no? niente di particolare non sono hoisted ok quindi esistono dal momento in cui le incontriamo nel codice ogni classe dovrebbe avere un solo costruttore il il body della classe è sempre eseguito in strict mode ma noi lavoriamo sempre in strict mode per cui va bene il constructor può usare la super keyword come si usa nei linguaggi di programmazione ad oggetti normale per chiamare il costruttore della super classe quindi diciamo quella da cui deriviamo questa classe e la classe ha dei metodi prototypes sul prototype e dei metodi statici quindi prototype methods se io li scrivo in questa maniera quindi il nome della funzione parametri eccetera aggiunge una property chiamata come chiamo la mia il mio metodo e e basta e poi la posso usare quindi diciamo che qui la sintassi è sostanzialmente simile a quella tradizionale ecco in più forse se volete abbiamo questi get e set che diciamo creano una pseudo property nel senso che noi possiamo accederla poi con punto no punto perimetre assegnare un valore e chiameremo il setter e se invece la leggiamo punto perimetre perché usiamo il valore chiameremo il getter questo però mi sembra ci sia anche in altri linguaggi di programmazione per cui niente di particolare sono una pseudo property nel senso che dobbiamo dare un nome questo nome viene visto poi come una proprietà quando lo vogliamo usare niente di particolare static definisce un metodo statico per la classe quindi questo è quello che finisce sul prototype ok e per chiamarlo dobbiamo mettere nome della classe punto nome del metodo perché perché non esiste l'oggetto ecco this may not be used inside static methods perché perché non avrebbe senso come nei linguaggi normali è statico non c'è un this se ci sono delle variabili sono devono essere anche se statiche posso addirittura fare l'extense si può usare super e super tra l'altro in javascript si può usare dovunque non solo nel costruttore a differenza di altri linguaggi io non so se è il caso di spendere tanto tempo su su queste cose direi di no perché perché fondamentalmente diciamo stiamo cercando di ricreare il linguaggio ad oggetti più tradizionale con sotto i prototipi che magari in certi programmi particolarmente complessi può avere senso fare tutte queste cose ma ma onestamente diciamo nel momento in cui abbiamo una funzione costruttore new person new task new qualcosa definiamo i suoi come si chiama le sue properties poi magari decidiamo se vogliamo le funzioni le funzioni le vogliamo mettere sul prototype ah no scusate ecco mi è venuto in mente quello che si diceva prima cioè qui dipende da dove chiamiamo la funzione nel senso che person prototype show age è una funzione accessibile da tutte le istanze quindi io posso avere un'istanza p e chiamarci show age quindi il this siccome io la chiamo su un'istanza si riferirà a quell'istanza ok quindi quello che dicevamo prima person prototype age di per sé si può fare però devo devo poi se voglio fare così scrivere person prototype age però è una cosa diversa e poi comune a tutte le istanze state che prima sono pappinato su questo dunque ok c'era la questione le extents diciamo che va bene ok possiamo si creerà una catena diciamo ci interessa fino a un certo punto dicevo noi facciamo new facciamo new di una funzione che quindi la usiamo come funzione costruttore e di per sé nei nostri programmi praticamente basta se proprio vogliamo farli assomigliare dal punto di vista della sintassi dei programmi più classici va bene allora usiamo la parola chiave class eccetera e va bene e poi e poi dicevo possiamo solo dobbiamo solo decidere dove mettere le funzioni che creiamo quindi se ne vogliamo una copia per ogni oggetto consapevoli del fatto che poi su ogni oggetto se qualcuno ogni giro vuole assegnarci un nuovo valore a quella funzione quindi un'altra funzione lo può fare senza modificare tutti gli altri oggetti se invece vogliamo una funzione uguale per tutti gli oggetti la dobbiamo mettere su prototip ok quindi noi abbiamo fatto questo breve diciamo escursus su riguardo le classi o meglio la parola chiave classe perché poi non è che sono spuntate le classi in javascript si è spuntata solo una sintassi per far funzionare tutto quel meccanismo del prototip di prima in una maniera più simile a come siamo abituati a usarlo tutto qui ok quindi diciamo che è spuntato class super extens static constructor e bisogna un attimo farci la mano dove funziona tutto più o meno come siamo abituati però bisogna fare attenzione perché appunto sotto c'è il meccanismo dei prototipi visto che penso abbiamo un po' di tempo un briciolo di tempo come sempre io volevo farvi vedere solo una cosa nel senso che apro un nuovo file una nuova cartella data 4 diciamo possiamo creare una cartella test sì test ok quindi butto via tutto volevo solo farvi vedere che queste cose le potete esplorare col visual studio anzi col sì visual studio code quindi test js prendiamo il codice quelle quattro righe che abbiamo scritto copia potete provare ops ecco questo è il motivo per cui di solito lo preparo prima che poi costo di costo di date non ho preparato console log ok format document ok quindi scrivo debug e così mi si ferma dovrei essere in grado di eseguirlo run run cosa c'è che non va no devo fare ah forse can I find more test perché vuole il modulo perché forse test c'è qualcuno cosa noi facciamo dovrebbe andare cosa vuole va bene allora ok siamo riusciti a farlo eseguire siamo tornati un po' indietro alle prime lezioni quello che volevo farvi vedere è che qui a sinistra potete esplorare tutte le cose che abbiamo detto no quindi se siete curiosi di vedere come funziona no troverete p aprite p person ok p person e ci trovate e non trovate le doppie quadre trovate l'underscore protom è quello di cui avevamo parlato cioè le doppie quadre prototype che vedete va a finire in una funzione funzione costruttore ok che poi ha anch'esso il suo prototype no che va a finire in una funzione costruttore che ha anche il suo prototype che è object che poi ad un certo punto dovrebbe avere il suo dove andate a finire no questa è la function proto ho aperto il costruttore prima get set ecco c'è il null no ok quindi l'oggetto ha il null ho fatto un passo in più perché in realtà ho prima aperto il costruttore e sono sbagliato quindi se aprite diciamo le proprietà dei vari oggetti potete fondamentalmente seguire quello che abbiamo detto prima quindi r come prot object che ha poi che è null ok quindi quelle catene che abbiamo visto prima potete andare a vedere direttamente qui nel debugger quindi cos'era dis no di ok new perso l'abbiamo visto sì se volete potete fare const f function sì eseguiamo f anche la f ha il suo prototype che porta ad un oggetto il quale ha il suo aperta quadra prototype che sarà object che ha poi il suo null ok quindi tutte quelle catene che abbiamo visto qui sono cose che poi se volete trovate quindi nel debugger occhio che ogni tanto se sbagliate cioè andate in loop perché perché siccome è tutto un oggetto se aprite la proprietà sbagliata troverete qualcosa che poi ripunta oggetto no ok bene quindi fatta questa piccola chiamiamola così demo se se vi posso permettere parliamo dell'ultimo argomento di oggi che sono i moduli ma avete visto che li abbiamo già usati insomma stamattina quindi i moduli i moduli che sono l'ultimo argomento di javascript ci resta da vedere importante sono un meccanismo per dividere i programmi javascript in file separati come abbiamo detto all'inizio delle lezioni sarebbero caricati in maniera del tutto indipendenti soprattutto nel browser e e farle parlare tra loro in una maniera ordinata no qual è il problema di farli parlare tra loro è come quando abbiamo in un linguaggio di programmazione diciamo tradizionale diversi file non dobbiamo usare avere conflitti di nomi di variabili globali ma magari abbiamo bisogno di mettere qualcosa di globale e dobbiamo comunque avere un meccanismo per esportare delle funzionalità agli altri file questi sono i due meccanismi di cui abbiamo bisogno e come si realizzano in javascript bene in javascript vi ricordate abbiamo detto tutto è pubblico questo è un problema no perché perché vuol dire che se io chiamo una cosa una variabile globale è in grico da una parte se la chiamo è in grico dall'altra poi quando li metto insieme ovviamente se non avevo previsto questo comportamento succederà che qualcuno sovrascrive il valore di altri quindi abbiamo bisogno di un meccanismo per incapsulare o per meglio dire nascondere i dettagli implementativi e magari anche alcune informazioni diciamo globali nel file a questo punto chiamiamolo modulo per mantenere il namespace globale cioè lo spazio globale di javascript quando viene eseguito un programma cioè l'equivalente delle variabili globali di javascript a tempo di esecuzione pulito andiamo a mantenerlo pulito e fare in modo che nelle variabili globali ci vada solo quello che vogliamo noi quindi di default tutto è nascosto se non quello che vogliamo noi ci sono due anzi tre modi per fare questa cosa il primo che però di cui non parliamo è prendere tutto mettere tutto quello che abbiamo fatto dentro una funzione inseguirla immediatamente ricordate che avevamo detto che esistevano le immediately invoked function expression iife cioè prendo tutto lo metto dentro due parentesi tonda aperta e chiusa apro e chiuso la parentesi tonda magari mi faccio ritornare qualcosa che così è un oggetto sul quale posso lavorare che ha delle proprietà che sono dei metodi tutto ciò che c'è dentro è isolato è isolato tramite il meccanismo delle closure fondamentalmente perché la closure è l'unica che può accedere a quello che ho messo dentro la funzione questo è il metodo diciamo così fai da te che diciamo ha la sua valenza limitata perché non è standardizzato quindi il programmatore fa un suo modulo lo fa in una maniera l'altro lo fa in un'altra e diciamo se non è standardizzato l'utilità rimane un po' limitata però lo citiamo perché di fatto il modulo col quale in javascript vengono nascoste le informazioni e tutto il resto del programma quindi tramite questo meccanismo ed è fondamentalmente il meccanismo che viene poi usato dai moduli tipo node.js esistono due tipi di moduli a parte quello diciamo fai da te che sono i moduli introdotti con javascript e s6 che usano la keyword import export e i moduli diciamo che sono stati standardizzati nel loro uso da node.js che usano require e che sono chiamati common.js questi sono basati sullo closure non sono mai stati standardizzati ma diciamo che visto che node è così diffuse è praticamente uno standard di fatto mentre gli s6 sono uno standard ecma cioè sono nello standard javascript sono supportati dai browser recenti sono supportati anche da node ma solo nelle versioni recenti noi adesso siamo alla 14 quindi in teoria sarebbero supportati poi c'è il problema diciamo pratico però ancora che magari un modulo è stato fatto secondo me è stato fatto seguendo il common.js e sì è vero che node lo supporta però se non mi dai l'implementazione fatta secondo s6 non me ne faccio niente non posso scrivere import e devo continuare a usarlo con require quindi dettagli maggiori cominciamo dal modulo s6 un modulo è un file javascript che esporta uno più valori con la export come vediamo nel codice adesso va bene riprendiamo cos'era questo noi alla fine facciamo export qual'export che facciamo qui decidiamo che cosa si vede lì fuori ok adesso diciamo meglio della sintassi quindi usiamo la export keyword e dall'altra parte usiamo l'import con la import keyword import ed export devono essere a livello top nel senso che non possiamo annidare nelle funzioni ecco questo forse è una delle poche cose che non si possono annidare in una funzione in javascript ci sono due tipi di export il named export di cui possiamo farne più di uno per modulo oppure il default export ovviamente essendo default ce n'è uno solo il default è il più facile basta scrivere export default export default qualcosa può essere un oggetto una funzione un valore qualsiasi cosa che volete export default valore ci exporta il valore ma non il nome se invece vogliamo esportare il nome dobbiamo mettere export senza il default quindi un singolo valore ci esporterà anche il nome di quel valore cioè il nome che abbiamo scritto nel modulo oppure se ne abbiamo bisogno di più di uno l'avete visto prima con le graffe ok gli stelassi in tassi e ci esporta anche i nomi oltre ai valori corrispondenti quindi export const name Luigi ci esporterà name e gli darà il valore Luigi quando faremo l'import dall'altra parte export grades esporta la funzione export name another name va bene esporto 2 posso anche rinominarlo in fase di export oltre che di import come l'abbiamo già visto quindi lo esporta col nome teacher anche se dentro si chiamavano another name ok ma abbastanza intuitivo direi per importare scriviamo import cosa dobbiamo import from modul name come scriviamo nel codice dall'altra parte o sopra vediamo il codice qui l'abbiamo fatto noi quindi exam component noi scriviamo import exam course exam form ok volendo possiamo mettere as come vedremo tra un istante come abbiamo fatto qui per rinominarlo in fase di import gli import sono hoisted però tanto noi di solito lo facciamo all'inizio del file per pulizia quindi questo ci interessa poco e sono read only cioè noi non è che possiamo scrivere exam cos'era exam course uguale qualcosa eccetera sono read only non è che posso andare a modificare il valore e tra l'altro anche un po' il senso dei moduli cioè non andiamo a sporcare quello che fanno gli altri ok quindi export default funzione e qui import dunque dal mod 1 ok e qui possiamo anzi direi dobbiamo decidere il nome decidiamo noi il nome perché essendo un default non ha il nome quindi gli diamo il nome occhio sì c'è la questione del sì il percorso relativo va a cercare nel fondamentalmente nei percorsi predefiniti tipo il node modules oppure no scusate node modules è senza percorso se mettiamo percorso relativo va a cercare dalla cartella dove si trova il file js corrente se no vabbè metteremo percorso assoluto che ovviamente non è mai buona pratica se è possibile evitare e poi e poi abbiamo abbiamo un nuovo valore no cioè un riferimento ad un valore nel nostro codice che possiamo usare come ci pare se era una funzione la possiamo chiamare chiaro che se era una stringa e facciamo così ci darà errore perché non è che possiamo chiamare una stringa come se fosse una funzione no però noi di solito sappiamo cosa importiamo e quindi lo usiamo di conseguenza no portiamo i componenti react e li useremo nel jsx portiamo delle funzioni o degli oggetti e li useremo come funzioni e come oggetti ok named export quindi diamo dei nomi e quando li importiamo diciamo cosa importare quindi questo name corrisponde a name questo another name corrisponde a another name e se vogliamo li rinominiamo come abbiamo intravisto as first second e poi abbiamo first second eccetera e quindi gli abbiamo dato il nome che volevamo perché magari chi ha fatto il modulo non ci piace come ha chiamato le cose oppure per comodità nostra come abbiamo fatto per browser route ci piace chiamarlo router il giorno che lo dovessimo cambiare è già pronto e possiamo fare questa cosa direttamente nel nostro codice quindi indipendente da cosa ha fatto chi ha scritto il modulo altre opzioni beh possiamo importare tutto con l'asterisco possiamo importare solo alcuni come facciamo di solito di nuovo il solito codice cioè il react router dom così come in bootstrap eccetera c'è di tutto noi qui ne abbiamo importati un paio ok possiamo anche importare il default va bene se vogliamo ok però diciamo che è un caso un po' raro nel senso che se abbiamo anche i nomi di solito usiamo i nomi ok extension in file va bene quando si scrivono i moduli sarebbe bene i moduli di tipo s6 chiamarli mjs così non c'è diciamo mai ambiguità sul fatto che siano moduli però diciamo tutti usano js e quando li importiamo in html possiamo farlo possiamo importare col type module così che dentro il main js possiamo scrivere import eccetera ok vi ricordate all'inizio quando abbiamo parlato di come importare il codice javascript nel browser dicevamo che bisogna fare attenzione a come si importa perché ci rende disponibile una certa funzionalità il problema del type module è che non funziona da file per cui se lo vogliamo fare possiamo fare adesso e non funziona da file a causa del cross origin come si chiama resource sharing sono automaticamente caricati in modalità defer che era quella raccomandata ma in realtà adesso nel momento in cui noi stiamo usando react non facciamo più niente di questo quindi è anche un po' per questo che abbiamo lasciato tutto qua è vero che possiamo caricare noi a manina i moduli javascript nel browser ma in realtà se carichiamo carichiamo in react e vedremo poi eventualmente come trasformare l'applicazione react in un bundle cioè un unico file da mettere in diciamo in questa maniera nella nostra applicazione che poi mettiamo su un server web vero eccetera eccetera però passiamo dalla modalità development alla modalità diciamo così release applicazione in cui ci perdiamo il debug ci perdiamo la possibilità di accedere il codice sorgente eccetera e ovviamente per il corso non vogliamo farlo perché vogliamo avere la possibilità di andare sempre a vedere quale è il codice sorgente debaggarlo capire cosa è stato fatto eccetera ok node supporta gli s6 e dalla versione 14 sviluppatore ci sono abilitati di default bisogna però avere o nel pack.js scrivere appunto che è un modulo oppure chiamarlo .mjs in realtà i moduli noi li usiamo più che farli e quindi la cosa a cui dobbiamo fare attenzione è stare attenti che magari il modulo cioè la libreria che andiamo a caricare non ha la versione s6 e quindi chiediamo allo sviluppatore di farcela oppure dovremmo andarcela a modificare noi e allora quel punto non ha senso e possiamo tanto vale usare i moduli versione diciamo standardizzata tra virgolette perché non è proprio uno standard di node che sono i common.js common.js .js .cjs per distinguerli non sono supportati dai browser a meno che non carichiamo qualcosa che sia in grado di interpretarceli come funzionano? beh usano quel meccanismo della closure cioè fondamentalmente racchiudono tutto in una funzione in maniera che diventi invisibile all'esterno e lo fanno automaticamente quindi node lo fa automaticamente quando voi fate require è come se mettesse tutto il codice di cui avete fatto require dentro una function che riceve un tot di parametri export require moduli vabbè il nome dei file eccetera così che possano essere utilizzati nel codice del modulo se necessario quindi per usarli facciamo come abbiamo fatto sempre finora const package dare eccetera 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 vabbè lo assegnerà export e sarà possibile poi utilizzarlo dall'altra parte faremo require e ci verrà fornito in questo caso ci sarà square e si potrà utilizzare ok però diciamo che questa parte noi la vediamo poco nel senso che se voi non volete scrivere un modulo sostanzialmente come si scrive il modulo non vi interessa vi interessa ma piuttosto come usarlo come fare l'import con require oppure con l'import di S6 eventualmente importando solo alcuni nomi e quindi questo è tutto fondamentalmente abbiamo diciamo detto tutto quello che c'è da sapere se un giorno vorrete fare dei moduli sapete come farli o quantomeno dovete fare attenzione nel senso che magari avete visto il modulo più bello del mondo e lo volete mettere sul lato server però il lato server fa girare node e quindi se il modulo non c'è in common.js il formato common.js può essere problematico e viceversa avete visto il modulo più bello del mondo vi serve nel browser per qualche motivo c'è in common.js e per caricarlo bisogna fare attenzione bisogna caricare qualcosa che sia in grado di caricarlo perché di default il browser ci carica i moduli ma i moduli S6 ok quindi credo che sia tutto quello che dovevamo dire sui moduli se avete dei dubbi o delle domande possiamo posso rispondere ecco una cosa a cui fare attenzione soprattutto anche in vista dell'esame così chiudiamo con un discorso interessante che risveglia tutti è come si installano i moduli noi facciamo sempre npm install adesso c'era reactor router dom vabbè attenzione ad installarli sempre localmente oramai il default è installarli localmente se non mettete nessuna opzione sono installati localmente il risultato è che finiscono nel package json automaticamente io faccio install e lui me lo aggiunge adesso c'era già perché l'abbiamo fatto prima però prima non c'era me l'ha aggiunto mi ha aggiunto la versione perché così sono sicuro che io ho testato una certa versione quindi va bene solo da quella in poi non usare la vecchia che magari è qualcosa che uso che non c'era se le installate globali poi noi non siamo più in grado di replicare la vostra installazione perché se le installate globali non finisce qui nel package json noi quando facciamo poi all'esame voi consegnate sul github come farete adesso anche per il laboratorio consegnate sul github tutto quanto tranne il node modules che è una cartella che tiene di tutto lo sapete come facciamo noi a ricostruire il node modules facciamo npm install senza parametri che va a leggersi il package json anche il package lock va bene con tutte tutte le dipendenze questo è ciò che abbiamo installato e l'altro sono tutte le dipendenze tutte le dipendenze quindi vi ricostruisce esattamente quello che avevate installato se voi avete messo qualcosa di globale non compare qui il risultato che poi voi farete un require oppure se siete in no.js lato server oppure farete un import in react noi abbiamo fatto npm install lanciamo l'applicazione e si pianta si pianta perché gli manca un pezzo no? non installate quindi il messaggio è non installate niente globale avremo solo una cosa che installeremo globale che è quello che ci fa funzionare fa girare il node sul server ma lo diremo poi perché così ci evitiamo di rilanciare il server ci fa lo stesso lavoro che ci fa react ma sul lato server se no tutte le volte che facciamo una modifica a un file sul lato server dovremmo rilanciare il node ok però diciamo che il default è non mettere niente globale quindi dovremmo essere a posto solo che in passato non era così fate attenzione l'opzione meno g è da non non usare non usare a meno che qualcuno non ce l'abbia detto esplicitamente tutto qui ok siamo arrivati a 11.30 non vedo domande quindi direi che possiamo terminare qui vi metto a un parere personale secondo lei vale veramente la pena non utilizzare npm usare yarn no non è senso noi noi usiamo npm non è senso noi diamo poi la lista dei comandi che useremo per testare la vostra applicazione e ci sarà che faremo il clone npm install e poi lanciano ah intendo proprio nella vita non lo so a dire la verità conosco poco yarn queste cose evolvono nel senso noi oggi spieghiamo react io non so dirvi se tra 5 anni spiegheremo ancora react spero che sia una cosa che duri abbastanza no però capite che fare previsione lungo termine l'informatica è sempre difficile se cominceranno a usare di più un altro sistema bisognerà adattarsi e passare all'altro sistema l'importante è che noi acquisiamo nel corso i concetti fondamentali e poi nella vostra vita lavorativa dovrete sempre diciamo tenervi aggiornati cioè npm dieci anni fa non esisteva nod probabilmente se c'era era proprio una roba minima oggigiorno ci sono delle aziende che usano dei servizi milionari sul serve cioè le cose evolvono una volta cioè inoltre si possono fare mille esempi purtroppo non so dare una risposta su questa cosa bisogna bisogna un po' vedere se uno si trova bene e se pensa che il progetto abbia un futuro perché una delle cose importanti è anche capire quant'è fondamentalmente poi la manutenibilità del software a un po' più a lungo termine io oggi scrivo la mia applicazione vabbè oggi dovete passare l'esame ma diciamo vi assumono scrivete la vostra applicazione React se poi tra cinque anni c'è bisogno di fare la modifica vabbè voi magari siete a fare un altro lavoro ma intanto siete a fare il lavoro di quello che modifica l'applicazione scritta da un altro cinque anni fa ok e se abbiamo cercato di non usare proprio l'ultima tecnologia che non si sapeva se prendeva piede e poi magari non ha preso piede quindi ci ha lasciato una specie di relitto che poi ci fa diventare matti già solo per installarlo perché tutte le dipendenze sono vecchi i pacchetti sono cambiati non si riesce più a installare eccetera sono un po' quei trade off su cui l'ingegnere con un po' di esperienza deve decidere che cosa fare quindi non ho una risposta purtroppo oltre al fatto che conosco poco questo YAR quindi un po' come dire usiamo React beh il corso lo facciamo su React per l'esame dovete saperlo però potevate usare Angular potevate usare n altri framework che ci sono in circolazione noi abbiamo cercato di calcare sui concetti importanti il DOM il fatto che bisogna aggiornare il DOM ci sono gli eventi JavaScript al suo event loop non bloccare eccetera tutte queste cose sono comuni a tutti poi è chiaro che in React c'è una certa maniera di gestire le cose con i suoi componenti in Angular ce ne sarà un altro in altri framework altri modi devono rimanere almeno i concetti chiave perché quelli diciamo pensiamo siano i più duratori finché c'è il browser penso che per un po' ci sia ancora questo rimarrà ok mi sono dilungato troppo mi sa ok quindi vi metto a disposizione le lezioni se avete dei dubbi chiedete pure su discussion e ci sarà lunedì il laboratorio guarderemo come sempre il numero di iscritti e vediamo come fare per ora se il numero di iscritti rimane costante probabilmente rimarremo con questo sistema però non lo so ecco se rimaniamo a 5-6 se andiamo a 5-6 iscritti probabilmente smettiamo ecco per ora mi sembra che stiamo andando bene se avete un feedback in proposito tra l'altro va benissimo fatecelo sapere ok anche privatamente su Slack per email come volete ok grazie e ci vediamo allora lunedì ok grazie grazie grazie